Ciao a tutti ragazzi sono Orko Verde, in questo video volevo informarvi che la Rockstar ha rilasciato un nuovo evento su GTA V online. Prima di cominciare vi invito a guardare i due video che ho caricato ieri dove vi ho mostrato la nuova modalità competizione e la nuova moto che sono state rilasciate insieme a questo evento. Lascerò il link di questi due video nella descrizione sotto questo video. Come bonus fino al 17 gennaio ci saranno i soldi e gli RP doppi nella nuova modalità competizione vendetta su ruote. Gli sconti e i bonus che vi elencherò ora dureranno tutti fino al 16 gennaio. Come bonus c'è il 25% in più sui soldi guadagnati dal traffico di veicoli per cui guadagnerete un po' di più rispetto alle altre volte. C'è lo sconto del 25% sui magazzini e modifiche per i magazzini per i veicoli speciali. C'è lo sconto del 50% sul lanciagranate acquistabile ad Ammonation. Allo Santos Custom oppure all'Officina di Venice c'è lo sconto del 25% su potenziamenti, prestazioni e motore quando modificherete un veicolo. Poi c'è lo sconto del 25% su giubbotti antiproiettile, munizioni, armi da lancio e munizioni esplosive. Come bonus ci sono i soldi e gli RP doppi in tutte le gare stunt create da Rockstar. Infine c'è la gara premium valida fino al 16 gennaio, la gara è corsia aerea, tutti i partecipanti guadagneranno tripli RP e chi si qualifica al primo, secondo e terzo posto riceveranno un premio in denaro. Ovviamente chi si qualifica primo riceverà un premio in denaro più sostanzioso. Prima di concludere questo video vi ricordo che in descrizione lascerò il link dei due video che ho caricato ieri dove vi ho mostrato la nuova moto e la nuova modalità competizione. Inoltre lascerò il link in descrizione anche il link del sito Rockstar Newswire riguardo l'articolo di questo evento. Niente ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale, condividete questo video sui social network. E da Orko vedrete tutto e ci vediamo al prossimo video. Bella!